Domanda ed offerta si incontrano ad Agri e Tour, il salone dell'agriturismo che si tiene ad Arezzo i prossimi 15 e 16 novembre con la presenza di Bayer da tutto il mondo. Un settore che vede le opportunità di business in crescita, tanto che si contano circa 12 milioni e 700 mila presenze nel 2018 in Italia e un fatturato di circa un miliardo di euro, un campo nel quale la Toscana si conferma leader nazionale. Conserviamo oggi il primato, sia del numero degli agriturismi rispetto alle medie nazionali, conserviamo il primato delle presenze negli agriturismi rispetto ai dati nazionali. È assolutamente rilevante il divario che c'è fra noi e le altre regioni, ci segue il Trentino Alto Adice come numero degli agriturismi, ma il distacco rispetto alle altre regioni è di migliaia di aziende di differenza, quindi ci aspettiamo da questa edizione di Agritur una soddisfazione di risultati positivi. Ci sono anche aspetti di degustazioni che vengono fatte, di percorsi enogastronomici, di valorizzazione ambientale e anche, voglio dire, paesaggistica del nostro territorio. È un insieme di cose che sicuramente dà alla nostra regione un risalto importante. Nel corso di Agritur ci sarà spazio per fare incontrare domanda e offerta grazie alla presenza di tour operator provenienti da Brasile, Canada, Cina, Danimarca, ma anche da Francia, Germania, Giappone, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, Regno Unito, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Stati Uniti. Sul piatto l'offerta di Toscana, Puglia, Lazio, Umbria, Marche, Campania e Basilicata, Lombardia e altre regioni. Tra i temi protagonisti di Master e Seminari ci saranno invece legislazione, promozione via web, pratiche sostenibili e agricoltura sociale. Nel corso della due giorni saranno anche presentate buone pratiche aziendali di esperienze che stanno innovando l'offerta del settore agriturismo. Grazie a tutti.